Quello che vi sto mostrando è un dettaglio dall'immagine del giardino che poco fa abbiamo corretto sia in RGB che in CMYK. Se ricordate, vi ho detto che avrei corretto in CMYK ma senza sfruttare a fondo tutte le potenzialità di questo metodo colore. La differenza essenziale tra le due immagini non è tanto di colore ma di profondità delle ombre. Guardate concentrandovi ad esempio su quest'area o se preferite su qualunque altra area scura. Questo è RGB e questo è CMYK. Di nuovo RGB CMYK. Come vedete l'aspetto di CMYK è leggermente più chiaro e soprattutto meno profondo nelle ombre. Nella palette dei livelli abbiamo ancora il nostro livello di regolazione curve come l'avevamo realizzato prima che prevedeva una curva nel CAN, una nel magenta, una nel giallo e una curva nel nero che in realtà è una non curva dal momento che non abbiamo cambiato nulla. Potrei naturalmente andare a curvare il nero che è ciò che ho intenzione di fare in questa lezione direttamente all'interno di questa finestra ma quello che vorrei fare è creare un nuovo livello di regolazione curve semplicemente perché questo mi permette di andare poi a attivare e disattivare soltanto la correzione sul nero che è quella che ho intenzione di farvi vedere. Andiamo quindi a selezionare nero nella finestra di dialogo della regolazione curve e andiamo a fare un'operazione di questo tipo. Andiamo a spostare verso l'interno il punto più in alto a destra della curva che corrisponde alle ombre e più o meno verso la metà della curva andiamo a ricostruire la sua forma nella parte più bassa. Andiamo a vedere la differenza. Questo è prima della correzione e questo è dopo. Questo è prima e questo è dopo. Come vedete le ombre si sono decisamente addensate e l'effetto di questa curva che vi ho appena mostrato è quella di mantenere il nero nelle parti chiare che deve essere molto poco e naturalmente andare a dare più contrasto visto che la curva è più ripida nelle ombre. La domanda che ci poniamo è quanto in là ci possiamo spingere prima di avere dei problemi? Beh, ci viene in aiuto la palette di info. Nel momento in cui vado a esaminare il valore di questo punto vedo che il nero è passato da 73 a 90%. Questo è un valore che ancora è accettabile. Io vi suggerirei di non andare molto oltre il 90% perché nel momento in cui arrivassimo ad esempio ad avere un nero pari al 100% vi assicuro che in stampa, e già si vede a monitor che potrebbero esserci dei problemi, le parti scure si chiuderebbero tutte. Questa è una cosa che non vogliamo e vogliamo invece verificare se la copertura totale di inchiostro è ancora sensata. Benissimo, siamo a 312% e questo direi è il limite che ci possiamo tranquillamente porre nel momento in cui abbiamo un attack di cui abbiamo già parlato attorno a 320% o anche addirittura a 340%. Potremmo spingerci più in là curvando ancora naturalmente tutti i canali ma questo è un valore già accettabile anche perché vi ricordo che a costo di avere dei colori un pochino meno saturi e delle ombre un pochino più chiare in certi casi è meglio evitare di spingere troppo il limite d'inchiostro totale. Certamente se questa foto fosse destinata all'output su un giornale o comunque a condizioni di stampa che richiedono un attack che ne so del 240% o 250% saremmo decisamente fuori area ma probabilmente avremmo anche fatto la separazione con un profilo non adatto. Quindi, per ricapitolare, la curva del nero che vado a resettare in questo momento è lo strumento principe per andare a dare densità e dettaglio e contrasto alle nostre ombre. Detto questo, abbiamo fatto una correzione in CMYK anche se in due step perché ho fatto le curve cromatiche in una lezione precedente e il nero adesso che va a sfruttare tutte le caratteristiche e le potenzialità di questo metodo colore. A questo punto, capiamo che il nero ha un ruolo molto importante in CMYK ed è arrivato quindi il punto in cui dobbiamo introdurre un concetto estremamente importante che è quello di GCR, ovvero la Gray Component Replacement. Lo facciamo nella prossima lezione. Grazie. Grazie. Grazie.